Ci si rivede. Devi essere affamato. Mi chiamo Kaylee Ann Russell. Lo scopo dell'esperimento è provare che l'oggetto dietro di me è responsabile di almeno 45 morti nei quattro secoli della sua documentata esistenza. Eravamo bambini. Ci siamo inventati una storia spaventosa per non accettare che il nostro padre era un uomo malato che ha ucciso nostra. Mamma! Perché non la facciamo finita e non rompiamo questo dannato affare? Voglio provare che molte persone sono state vittime della forza sovranaturale che risiede in questo specchio. Vuoi riscattare il nome della famiglia? Avevi promesso che non avresti dimenticato. Papà? Tim. Tim. Riprenditi. Non è reale. Oh mio Dio. Corri! Ho conosciuto i miei demoni. Ne ho molti. Ho visto. Ho visto il diavolo. Lui è me. Lo que Zi. Ho 2ato. HoSpillo. Ho cinque. Ho cinque. Ho cinque. Ho cinque. Horeso.